Ciao a tutti e ciao Mario. Oggi vi parleremo di tre cose. Il caldo in atto dell'anticiclone nordafricano, l'arrivo poi dell'anticiclone delle Azzorre e poi tornerà ancora l'anticiclone nordafricano. Brava, Elisa, in una pennellata vi ha descritto tre fasi. Il caldo in atto, è vero, l'africano è arrivato è la prima volta dall'inizio dell'estate, dal primo giugno, porterà caldo ovunque, attenzione, valori di 35 gradi sull'Emilia, sulla Romagna, Puglia, interno Toscana-Lazio, 37, 38, forse anche 40 gradi sull'interno dell'isola maggiore. Poi arriva l'anticiclone dell'Azzorre, temperature scendono tra 30 e 33 gradi, quindi valori gradevoli, però qualche rovescio temporale in più, soprattutto al pomeriggio sulla regione di nord-est e del medio adriatico al sud. E questa situazione andrà avanti fino a circa il 2 luglio, poi dal 3 luglio ritorna l'anticiclone africano e quindi caldo intenso. Grazie. Grazie a te, Elisa.